Michelle non vede da tanto tempo Aurora e le dice che è diventata enorme. Il pancione cresce sempre di più. Ma la mia bimba! Finalmente! Da quant'è che non ci vediamo? Qualche settimana, tu vai in giro, fai cose. Panzonissima! Perché sei diventata enorme e non è la carità. Sei diventata enorme! Non sei enorme, amore, non sei neanche ingrassata. Infatti adesso ti porto a mangiare. Ma va bene così, anche se è diventata enorme. Infatti vanno a mangiare e ci sta tutta, come si dice a Roma. Grazie per la visione!